Prima di iniziare questo episodio vi ricordo che in descrizione trovate un link dove potete acquistare The Sims 4, le sue espansioni e un sacco di giochi per PC e console scontati, anche in pre-order. Utilizzando quel link voi risparmiate e allo stesso tempo date un contributo concreto al mio canale. Ciao a tutti, Dream Lake Moon vi dà il benvenuto a un nuovo episodio della Nods Berry Challenge. Iniziamo anche questo sempre davanti all'ascensore in attesa di Perla perché Perla è esagerata, ha deciso che sta per ottenere un'altra promozione e quindi sì, l'attendiamo qua. Mi è anche appena spuntato, a parte questo, che lo spirito esigenco sta svanendo, per cui dobbiamo correre assolutamente alla sua tomba per rafforzare la connessione col mondo fisico. Però non è questo che importa adesso, stiamo solo aspettando che lei torni con la promozione grazie a questa cosa e niente, poi lei ha guadagnato un punto in abilità, cioè ha raggiunto il livello superiore di canto e quindi ha completato anche questa cosa del giorno della nuova abilità. Comunque vedremo un'altra giornata con lei. Adesso ci tenevo solo ad assistere assieme alla sua promozione che appena passato mi sembrava Amal. Così, cioè di sfuggita mi è sembrato lui. Quindi, yeah, stile di vita acquisito pure. Bella, mi piace di più questa. Abbiamo sbloccato lo stile di vita stacano vista, ma va, non l'avrei mai detto. Eh sì, amante di interni in corso, davvero? Vabbè, stacano vista, attivo, benissimo. Per cui abbiamo guadagnato, cioè guadagneremo 15 simoleon in più all'ora come esordiente per un totale di 66. Allora abbiamo anche ricevuto il bonus di 537 simoleon. Nuovi abiti, il prossimo turno è martedì alle 14, per cui domani giornata libera, magari ci vediamo con lei domani. Nella sua giornata libera Perla si è svegliata prestissimo per potersi allenare. Ormai ha già raggiunto da un po' il massimo potenziale fisico e si nota anche dai muscoli. Dobbiamo solo raggiungere il livello 10 di forma fisica e si sono lamentati già i vicini perché sta facendo ginnastica, ma cioè loro cosa gliene fregano, è mica casino questo. Potrei capire ieri sera che prima di andare a letto si è messa a cantare un attimo, ma perché si sta allenando non possono dire niente. Luna, chiaramente se è una persona terribile e irrispettosa hai commesso un grosso sbaglio. Me ne ricorderò. Mamma mia. Cioè eri anche fuori, non so. Vabbè, insomma da quando ha lasciato Anjan, neppure Luna che prima l'adorava sembra avere più questa grande considerazione per lei. Vabbè, insomma lei si sente in pace con se stessa, è allegra. E infatti è per questo che oggi, cioè non è per questo, oggi incontrerà le sue sorelle per parlare perché soprattutto c'è Alba che vuole dirle una cosa. Per cui vabbè hanno approfittato per organizzare un pranzo insieme, una giornata insieme e lei, vabbè, intanto si eserciterà a cantare, la sua quantità di sport l'ha già avuta per oggi, per cui intanto canta, cambia gli abiti poi e penso che se non succede nulla di particolarmente interessante ci vediamo direttamente al pranzo. Allora, perché noi abbiamo i cugini che rompono le scatole? Cioè, allora, vi spiego. Siamo a casa, stiamo aspettando che Alba torni dal lavoro, nel frattempo Perla si è messa a cantare con Crystal e chiama nostro cugino. Hai mai sentito parlare delle prove dei bisogni? A quanto pare prendono un gruppo di sim, li mandano in qualche posto sperduto e lasciano che si sfidino tra di loro, senza esclusione di colpi, che è Hunger Games. Pensi che ti piacerebbe partecipare a qualcosa del genere? Ci sto, oppure solo se durasse meno di un paio di settimane. Dura poco, ti prego. No, finisce solo quando resta un sim. Se durasse due settimane non sarebbe abbastanza epico. Vabbè, senti, vai a quel paese, noi aspettiamo Alba. E in realtà stiamo guadagnando un altro punto a forza di aspettare Alba. La voce punteggia ai karaoke di Perla, migliorano senza sosta. Guarda come canta. Eh, la sento più che altro. Brava però. Wow, che groove. Vabbè, questo le aiuterà al prossimo karaoke in duetto col suo Giulio. E nel frattempo speriamo che arrivi anche Alba perché non ne posso più di sentirla cantare. Tutto il giorno che canta, basta. Non stufa. Alba, sbrigati a tornare. Vabbè, però questa canzone è figa, dai. Dai, Alba. Oh, finalmente. Per cui. Formo un gruppo con Alba e Crystal e mo' ce ne andiamo a mangiare da qualche parte. E finalmente siamo al Burger Joint. Ci voleva un posticino nuovo, cioè è da un po' che ho scaricato questo lotto, però non credo di averlo mai utilizzato. Per cui ordina per il tavolo, ci prendiamo qualcosa da mangiare per tutte e tre. Allora, che possiamo prendere? Prima di tutto vediamo cosa c'è. Cose da fast food. Benissimo. Allora, le nostre possono prendersi. Tutte e tre un bello hamburger. Un bello hamburger con... O una bistecca. No, dai, facciamo l'hamburger. Hamburger con... Cola alla crema. O succo d'arancia. No, dai, cola alla crema. Perfetto. Allora, ragazze, come va? Noi bene. Tu come va, invece? Beh, io ho passato un capodanno davvero fantastico. E lo dice con un sorrisone. Un sorrisone. Per cui... Chiediamo... Ecco, chiedi degli hobby. Chiedi della carriera, ma penso che sappia già il lavoro che fanno le sue sorelle. Una è artista, pittrice, e l'altra lavora nei servizi segreti. Sì, gradisce la pittura, lo sappiamo. E quindi anche lei chiedi degli hobby. E invece tu come va? Canti ancora? Beh, ogni tanto. Giulio è bravissimo a cantare. È davvero fantastico sentirlo. Beh, io preferisco andare in palestra comunque nel mio tempo libero. Sì, beh, lo sospettavamo, Alba. Lo sospettavamo. Tranquilla che... Invece, sai, devo dirti una cosa. Ah, sì, sì, apri bene le orecchie perché non so quanto ti farà piacere questa cosa. Davvero? Beh, diciamo che qualcuno si è comportato da lama. Beh, non esattamente. Però sì, anche ha avuto un capodanno particolare. Cioè... Guardate. Alba. Per cui... Chiedi della sua giornata nel senso di capodanno. Cioè, cosa è successo? Conversazione personale profonda. E conversazione profonda. Beh, insomma... Io sono uscita con Crystal che usciva con Amal. Ah, bene. Sì, però dato che non volevo fare il terzo incomodo è venuto anche Anjan. Eh, beh, mi sembra una bella cosa, no? Cioè... Sì, però... Insomma... Cioè, da... Sembrava un'uscita tra coppie, no? E vabbè. Che male c'è? Eh, il punto è che poi è diventata un'uscita tra coppie. Beh, non mi pare la... La morte di nessuno. No? Ne sei sicura? So che sei appena uscita da una relazione con lui. Ma... Sì, però... Cioè, voglio dire... Crystal, cosa sta cercando di dirmi, Alba? Ah, non ci arrivi da sola, proprio? Beh, sta cercando di dirti che... Non ha trascorso la nottata da sola. Che cosa? Davvero? E lei pensa... Mmm, quanto vorrei urlare parole proibite. Eh... Sì. Eh, sai, d'altronde... Entrambi single, adesso... Però, insomma, gli ho detto che non è nulla di serio da parte mia. Eh, questo dovrebbe consolarmi, secondo te? Eh, sì. In teoria, sì. E le dice davvero le parole proibite? No. Chi è che stava... Chi è che stava dicendo parolacce? Voglio capire. Uh. La votazione è chiusa. Comunità goliardica ha vinto. Vabbè, poteva vincere qualcosa di peggio. Guardate chi c'è qui. Ci sono Antea e Lorenz. Ciao, ragazzi. Che ci fate qui voi due? Vabbè, non facciamoci domande alle quali non vogliamo risposte. Ecco, tutto qua. Sì, insomma, ti sta dicendo che ha cominciato questa relazione con Anjan. Ti spiace? Beh, è qualcosa di pulito, è cominciato dopo che tu l'hai lasciato. Beh, io non l'ho lasciato. E comunque, sì, possono fare quello che vogliono. Andare in palestra insieme. E anche a fare ginnastica insieme a letto. Eh, perché lo stai dicendo con una faccia non troppo convinta? Eh, beh, lo so, mi brucia ancora un po'. Però tu hai Giulia adesso, no? Sei così entusiasta di lui. Beh, sì, è vero, però, insomma, Anjan le piaceva tanto. Ma tantì... Oh mio Dio. Ma perché? Eh, si sarà sporcata la maglietta? Eh, penso anch'io, non c'è altra soluzione. E poi, Anjan è un orso. Cioè, lo sappiamo che non è assolutamente adatto a te. Lui è come un pipistrello. Va dalle ragazze e succhia tutto quello che può succhiare. Sì, grazie. Cristal, per favore. Ma perché? Ma per favore, dai. Lasciamo stare. Che postaccio che è questo. Che clienti che ci sono in questo locale. Vabbè, dai, non pensiamoci. Pensiamo a mangiare. D'altronde non è che io abbia qualcosa di... Particolarmente... Cioè, non stiamo affrontando nulla di serio io e lui, eh? Tranquilla. Vabbè, anche se fosse a me non dovrebbe importare, giusto? Avete ragione voi. C'è Giulia adesso. Beh, poi Anjan è uno di casa, no? Cioè... È più un'amicizia. Sì, sì, certo. È un'amicizia. Mangialo il tuo hamburger, però, tesoro. Conversazione sul pasto? Si può? No. Vabbè, lei aveva più sete che altro. Lei anche. Mangialo sto hamburger. Ma io preferivo un tramezzino al formaggio grigliato. Beh, comunque... Non chiamerò la polizia solo perché... Scusi? Solo perché il mio ex era come un robot freddo e che... Ok, faceva esplosioni a letto, ma nulla di più. È il mio ex. Adesso è un ragazzo molto migliore. Oh. Meno male. Però continuo a pensarci, eh? Sì, come dicevo prima, Anjan le è sempre piaciuto molto, molto, molto. E questo penso che non le passerà mai. Era proprio cotta. Ma tanto anche. Ma non finite l'hamburger? No, come ho detto, preferivo un tramezzino al formaggio grigliato. Vabbè, in pacchetta lo portiamo a casa noi. Capito. In pacchetta. Ma comunque ora devo andare a un appuntamento. Eh sì, perché... In realtà la giornata di Perla non finisce qui. Tanto lei va al lavoro alle 14. Figuriamoci. Quindi queste li porto a casa io. Se non vi dispiace. No, no. Prendi pure. Tanto noi non abbiamo fame. Sì, allora partite la ridarella. Non si sa perché. Puoi metterlo nell'inventario? Grazie. Lei può darsi una calmata, per favore? Mamma mia. Quindi. Scusate, sto facendo tutto tranne che le cose giuste. No, non si può scegliere il gruppo per cui paghiamo. Termine del pasto paga il conto. Ce ne torniamo a casa. Beh, comunque è solo una cosa di letto, eh. Ripetiglielo. Sì, va bene. Non ci tengo a saperlo. Grazie, ragazze. E su con la vita. Finita la pioggia? Vedrai di nuovo il sole. Grazie per questa perla di saggezza. Scioglie il gruppo e andiamo fuori al nostro appuntamento. Perché sì, dopo tutto questo in realtà noi avremo un appuntamento. Appuntamento si fa per dire. Comunque pur sempre appuntamento con il nostro Giulio. Oh mamma mia, perché sei molto tesa? Non è il mio genere. Ah, per la musica. Ma basta spegnere. Scusa. A te, ah se spengo. Ma ci segue ovunque. Uh, e lui già comincia. Wow. Sì, ha fatto una guerra per uscire presto dal lavoro. Ma hai trovato il lavoro, quindi. Chiedi del lavoro? Si può? No, sai che avevo dei colloqui. Infatti mi sa che è sempre disoccupato. Ma vabbè. No, un'altra cosa avevo visto prima. Che ci tengo a fare. E cioè, che non l'abbiamo più fatto. impara a conoscere perché c'è un ultimo tratto di lui che non conosciamo. Beh, sembra quasi che io sia un lama perché non mi prendono sul serio, insomma, nessuno. Ah, lei è mia cugina Antea a non farci casa e spesso in giro da queste parti, anche se è di Sulani. Ah sì, davvero? Vabbè, non vi vogliamo nella nostra conversazione. Vabbè, beviti il tuo mare di fuoco. Ma l'altro tratto impara a conoscere. Adesso dovremmo capirlo. Vabbè, che mi dici di te, Giulia? A parte il canto e il lavoro che non trovi. Ma io non vi voglio nella mia conversazione. Cioè, dovremmo spostarci, seriamente. Mamma mia. Sì, salve a tutti, io sono un uovo di Sammishuno. Va bene, grazie. Ma io vorrei qualcosa di un po' più intimo. Non riusciamo a conoscerlo, ragazzi. Non riusciamo a conoscerlo. Non ce la faremo mai così. Siediti insieme. Signora, lei ha l'aria di qualcuna che sta per incontrare il tristo proprio adesso. Non mi faccia scherzi. Che è una cosa che non sopporterei. Dov'è finito il tuo drink? L'hai nascosto? L'hai buttato? L'ha nascosto? Uh, questi abbiamo. Vabbè, tra 16 ore. Va bene. Siediti. Riusciamo adesso a imparare a conoscere? No, ovviamente no. Basta, è passato il nostro momento. A meno che... No, l'ultimo tratto non lo conosciamo. Vabbè. Uh, fai fichi fichi nella vasca di idromassaggio. No. Andiamo sul soft. Lamentati della musica spettrale. Certo che mettere musica spettrale in un posto del genere è proprio da sciocchi. Questo posto dovrebbe avere musica incoraggiante. Ma perché? Ma a me non dispiace la musica spettrale, eh no? Beh, magari non in questa stagione. Però, vabbè, sussurra smancerie. Fai un po' la smorfiosa. Perché tu sei qui. Perché abbiamo uno scopo ben preciso con Giulio. Ovvero? Ovvero? Trovato un partner. Allora, ti sei ambientato qua. Dove osi andare? Dove osi andare? Vieni qua. Chiedi se è single. Ma... Senti, quindi la ragazza non l'hai ancora trovata? Come no? Pensavo di averla trovata. Davvero? Beh, diciamo che finché non me lo chiederà, sarò single. Ah, ma davvero? Quindi... Accoccolati. Bacia. Ma... Per caso qualcuna che conosco... Sì, la conosci benissimo e canta molto bene. Beh, non meglio di te. In ogni caso, presumo. No, ma... È promettente. È una giovane promessa del canto. Ah, ma davvero? E quindi... Possiamo... Affermare di stare insieme? Beh, penso di sì. Se te fa piacere. Non possiamo chiedergli di diventare il fidanzato. Battute di abbordaggio audace. Ma che carino, l'hai fatto un messaggio. E... Non possiamo ancora chiederglielo. Solletica senza pietà. Dove stai andando? Certo che sei timido, Giulio, eh? Uh, c'è qualcuno che ci ha rubato il microfono? Vabbè, sta solo parlando. Non vorresti essere tu a chiedermelo. Che è successo? Lawrence. Sì, forse ho capito. Forse ho capito. Purtroppo Oriel ci ha lasciato e anche Silver. Ragazzi. Eh sì. Purtroppo sì. Se la vi. Il primo nipote di Ginkgo ci ha lasciati. Già. Vabbè, ma andiamo avanti. La vita continua. Anche se è brutto. Uff, è una serenata. Lui apprezzerà sicuramente. Però mi sa... Oh, chiedi di diventare il fidanzato. Beh, allora te lo dirò a modo semplice. Scegli un disco e io la canterò per te. Ma davvero? Beh, no, stupiscimi. Beh, solo se mi dici che sei il mio fidanzato. Va bene? Quindi me lo stai chiedendo? Sì? Beh, solo una conferma, no? Ma certo. A proposito, realizzato, benissimo. Gliela fai questa serenata? Doveva essere prima la serenata, a dire il vero. Beh, sono così felice di averti ritrovata, Perla. Non credevo che tu fossi una ragazza così dolce. Insomma, mi sembrava un po' una smorfiosa, ecco. Adesso ti dimostrerò quanto ero smorfiosa e quanto lo sono tuttora. Gliela fai questa serenata? E tu non pensavi altro che studiare? E dove ti ha portato tutto questo? Hai ragione, ho dovuto cambiare città. Ma per fortuna. Perché? È vero, non avrò trovato un lavoro. Ma ho trovato te. Oh, che carini. Gliela fai questa serenata? Entro domani, eh. Cioè, entro oggi. Che è già domani. No, abbiamo capito che la serenata non gliela fa. Fagliela questa serenata, dai. Proponi le nozze adesso? No, mi pare un po' esagerato. Fai una serenata. Dai, basta con le chiacchiere. Fai la serenata. Niente, ha deciso che la serenata non gliela vuole proprio fare. Dai, fai sentire la voce. Fai sentire la tua voce. Che bella voce che hai. Oh. Ma sei migliorata tantissimo. Intonatissimo. Eh, sei allenata per te, caro Giulio. Sei allenata per te. Beh, questa donna mi fa impazzire. Va bene, con questa serenata intonatissima, io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo scoperto una verità scomoda su Alba, ma vabbè. Prima o poi qualcosa, Anjan doveva pure farlo. E anche Alba. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like. Mi raccomando, iscrivetevi. Se siete nuovi, attivate la campanella. Lasciate un commento a me, fa sempre molto piacere. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutte le mie serie. Trovate anche i link ai social, ai canali dei miei youtuber, al mio secondo canale e alla mia affiliazione Instant Gaming. Tramite la quale potete acquistare videogiochi a prezzo scontatissimo, aiutando anche al contempo il mio canale. Per cui, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!